Buonasera, buonasera, benvenuti al TV giornale di Telestense, come sempre abbiamo molti temi di cui occuparci, vi aggiorneremo sulle ultime per quanto riguarda la caccia al killer Igor che seguiamo ormai da molti giorni, parleremo di turismo, come sono andate le cose durante il weekend pasquale e sostanzialmente le cose sono andate molto bene se si fa eccezione per una certa area di cui naturalmente parleremo e poi c'è la questione del maltempo, ci sono state situazioni di maltempo abbastanza pesanti e c'è un'allerta meteo prevista per le prossime ore e poi molti altri temi come sempre nel nostro TV giornale ma il primo che affrontiamo è la SPAL, la squadra che ormai ci fa tutti sognare che è proiettata verso tre guardi che tutti possiamo solo immaginare e che con il 2-1 maturato sul Trapani Almata ha staccato le dirette inseguitrici raggiungendo un risultato importante che ci riporta indietro addirittura di 51 anni e vediamo perché in questo servizio. Due gol che significano un altro piccolo grande passo per la SPAL verso un traguardo che molti a Ferrara non pronunciano per scaramanzia ma che fine settimana dopo fine settimana diventa sempre più realtà SPAL che bate in rimonta un buon Trapani con una doppietta di Antenucci giocatore simbolo di questa squadra che sta facendo sognare una città intera i bianco-azzurri capolisti ora sono a 67 punti a più 5 su Verone e Frosinone ferme a 62 e a più 13 su Benevento e Cittadella neanche nelle più rose e prospettive di inizio campionato ci si immaginava questa posizione privilegiata in classifica maturata dopo la grande paura piombata sullo stadio Mazza al quarto minuto del primo tempo il lunedì di Pasquetta quando una parata incerta di Meret non ha bloccato il tiro di Barillà che ha aperto le marcature ci ha pensato poi Antenucci nella ripresa a mettere le cose a posto prima con un tiro deviato al 56esimo poi con uno schema su calcio di punizione al 76esimo con cui Antenucci ha regalato la vittoria alla SPAL sfruttando il passaggio perfetto di Schiattarella Meret a fine partita poi si è rischiatato salvando il risultato negli ultimi minuti della partita stadio Mazza che al triplice fischio è esploso uno stadio esaurito ogni partita casalinga e che il lunedì di Pasquetta ha salutato una vecchia conoscenza della storia calcistica ferrarese Sergio Perlissi attaccante che milita in Serie A con il Chievo Verona allo stadio per salutare i vecchi tifosi e chissà se tra i sostenitori bianco-azzurri c'era qualcuno presente anche 51 anni fa nello stesso giorno il 17 aprile del 1966 infatti allo stadio che allora si chiamava Comunale si consumò una sfida decisiva per la salvezza dei bianco-azzurri e la permanenza in Serie A la spalbate il Foggia 2-1 stesso risultato del giorno di Pasquetta con il Trapani e grazie a quei punti poi i bianco-azzurri si salvarono Cambiamo decisamente argomento decimo giorno di caccia al killer di Budrio e Porto Maggiore ma ancora l'uomo non si trova e la gente della zona ovviamente ha paura Ancora un altro controllo e questa volta in un casolare che si trova proprio nel cuore della zona rossa alle valli di Campotto dove i reparti delle forze speciali italiane stanno cercando Norbert Fair alias Igor il russo decimo giorno di caccia e al momento l'esito è sempre lo stesso il killer di Budrio e Porto Maggiore non si trova i 40 chilometri quadrati di area che le forze dell'ordine stanno perlustrando non danno i buoni frutti e di Igor il fuggitivo non c'è traccia un'aria immensa da controllare che lascia presagire che ancora ci vorrà del tempo per scovarlo la pioggia di questi giorni e il freddo potrebbero indurlo a cercare un riparo più sicuro di quelli forse usati fino ad ora e per questo potrebbe uscire dalla tana dove si è nascosto gli inquirenti non molleranno le ricerche in quella zona fino a quando non l'avranno perlustrata tutta anche con i cani molecolari che in queste ore se la devono vedere con la pioggia e intanto anche in procura Ferrara si indaga su Norbert Fer serbo di 41 anni questo infatti sarebbe il suo vero nome e non Igor Vaklavic detto il russo dove si è finito e come faccio a resistere tutti questi giorni fuori alla diaccia un mistero gli inquirenti tuttavia non escludono nemmeno che Igor non sia più lì anche se lo ritengono più improbabile la zona fra Marmorto e Campotto il killer la conosce molto bene visto che almeno da due anni vive da quelle parti e la fuga in altri luoghi almeno che non abbia dei complici è invece molto più improbabile perché per lui potrebbero aumentare le incognite nella zona rossa intanto la gente che vive nei casolari di campagna è terrorizzata si blinde in casa e non dorme la notte il timore che il killer possa pretendere qualcosa da loro infatti è molto alto e c'è chi rinuncia persino ad andare al bar per fare quattro chiacchiere pur di non lasciare la famiglia da sola il timore di Igor inoltre sul nostro territorio allegge ogni dove persino in un inseguimento della stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica sulla statale adriatica un uomo con una poli infatti non ha rispettato un posto di blocco e da lì la paura che fosse Igor ha fatto scattare un inseguimento senza precedenti anche se poi si è trattato di un uomo di poggio renatico Igor intanto continua la sua fuga i reparti speciali lo cercano uomini esperti in grado di affrontarlo senza paura visto che lui il killer continua a girare con almeno tre caricatori di arma da fuoco circa una quarantina di proiettili e un fucile con molta probabilità uno di quelli posseduti da Pierluigi Tartel il pensionato ucciso dopo una rapina violenta consumata nella sua casa di Aguscello il 9 settembre del 2015 naturalmente tutta questa vicenda la presenza di questo personaggio nella cosiddetta zona rossa quella che orbita più o meno intorno a Campotto ha dei riflessi anche sul turismo inevitabilmente e quindi ci sono state prenotazioni disdette negli agriturismi poche visite ovviamente perché la zona rossa è interdetta ma anche in alcune zone limitrofe boom di presenza invece alle saline di Comacchio e ai Lidi vediamo il servizio oesi di Campotto off-limita i turisti le valli infatti sono proprio il cuore della zona rossa dove carabinieri e reparti speciali delle forze dell'ordine stanno cercando Norbert Fair alias Igor Vaklavici il russo e per questo gli appassionati di turismo verde che amano particolarmente quelle zone anche per una scampagnata in giornata hanno dovuto rinunciare o disdire le prenotazioni soprattutto negli agriturismi presenti in quel territorio alle oasi di Argente infatti non era possibile entrare visti i posti di blocco creati dalle forze dell'ordine aperto invece il museo delle valli di Campotto che tuttavia non ha registrato grandi numeri dato il momento che sta attraversando la zona molto bene invece sono andate le presenze ai Lidi e nelle saline di Comacchio il nuovo museo del Delta Antico nel cuore della città lagunare presa d'assalto infatti registra il pieno di turisti mille i biglietti staccati nelle sole giornate fra sabato e domenica tanti anche coloro che hanno scelto di visitare le valli di Comacchio godendosi bellissime giornate di sole in mezzo alla natura delle saline il vero boom tuttavia si è registrato lungo i viali dai sette Lidi da Volano a Spina le numerose animazioni programmate per il weekend di Pasqua aiutate dal bel tempo e dal periodo in cui le festività sono cadute hanno indotto molti turisti a scegliere la nostra costa come meta per una mini vacanza tanti anche coloro che hanno deciso di trascorrere la Pasqua dedicandosi all'apertura della seconda casa in previsione dell'arrivo oramai imminente della nuova stagione estiva gli operatori sono contenti e confidano nei prossimi weekend segnati da altre festività che consentono di nuovo lunghi ponti di riposo le cose sono andate piuttosto bene dal punto di vista turistico anche a Ferrara città d'arte per così dire 11.000 turisti hanno visitato i nostri musei nel weekend pasquale amministrazione comunale naturalmente soddisfatta vediamo il servizio Ferrara si conferma una delle piccole città d'arte più apprezzate in Emilia Romagna e se i turisti arrivati per il ponte pasquale erano pressoché italiani molti degli oltre 11.000 visitatori che hanno scelto i musei della città erano stranieri francesi in particolare ma anche inglesi che scelgono Ferrara perché a metà dell'itinerario che collega Venezia con Firenze la città insomma piace a chi vuole trascorrere qualche giorno fuori porta magari dalle grandi città ma anche a chi viene da più lontano e in questo weekend pasquale lo stesso ministro della cultura Dario Franceschini ha scelto la sua Ferrara senza rinunciare alla passeggiata pasquale lungo le piazze e le vie del centro città il castello estense il sito d'arte preferito per chi sceglie Ferrara come meta per trascorrere un weekend lungo per una gita giornaliera sono infatti quasi 6.000 visitatori che hanno deciso di godersi la mostra presente al suo interno dal titolo L'arte per l'arte e che ha messo in mostra i quadri di Boldini, De Pisis e che dal 15 giugno rinnoverà le opere allestendo nuovi quadri di Boldini ancora mentessi e previati i numeri però sono stati raggiunti anche grazie al fatto che il castello estense rispetto al resto dei musei vedi Palazzo Schifanoia Palazzina Marfisa o il Museo della Cattedrale è rimasto aperto anche la domenica di Pasqua e non solo come gli altri il sabato e il lunedì numeri che la dicono lunga sull'interesse dei turisti per la città estense bilancio ottimo la città d'arte e di cultura traina sempre di più la nostra rete museale grazie alla card grazie alla promozione grazie all'interesse crescente ha avuto un ottimo risultato parliamo di 8.000 biglietti nei giorni pasquali fra tutti i musei di cui 5.800 nel castello estense che continua a essere un po' il nostro polo di attrazione tante persone in giornata ma dai primi dati che arrivano anche dagli hotel dai bed and breakfast anche parecchia gente che ha scelto di venire a Ferrara anche per dormire buona la presenza di visitatori anche al Museo di Storia Naturale mentre al Museo del Risorgimento e della Resistenza i visitatori registrati sono stati 250 lungo weekend pasquale caratterizzato perché c'è stato anche questo da maltempo e temperature in picchiata in alcune zone del territorio in particolare nel Centese e Coldiretti sta facendo la conta dei danni vediamo altra giornata impegnativa per i vigili del fuoco che sono intervenuti a seguito del maltempo di martedì che si è abbattuto sul Ferrarese in queste ore i vigili hanno messo in sicurezza alberi e rami pericolanti liberando anche strade ma gli interventi più difficoltosi i vigili del fuoco li hanno dovuti fare la sera di Pasqua quando grandi ne piogge e forti raffiche di vento si sono abbattute sul Ferrarese e in particolare sulla provincia il Centese è tra le zone più colpite tanto che il forte vento ha scoperto una porzione di tetto di un'abitazione la copertura della casa ha per metà perso coppie e laterizio il sindaco Fabrizio Toselli ha ringraziato i vigili del fuoco e i volontari per il lavoro svolto e proprio in queste ore nel frattempo è il corso e il monitoraggio da parte di codiretti dei danni alle culture nella provincia i danni più pesanti delle precipitazioni della sera di Pasqua si registrano tra gli ortaggi cereali e frutteti in piena fioritura con il rischio di perdere buona parte della produzione della frutta estiva in particolare nel bolognese e i confini con Ferrara nel ferrarese invece le prime segnalazioni di danni si sono registrate anche a Sant'Agostino Voghiera, Gambulaga, Tresigallo e Formigliana oltre che nel Comachiese e nel Mesolano nell'attuale fase stagionale sottolinea la Col di Retti la grandine l'evento più tenuto dagli imprenditori agricoli per la possibile perdita dell'intero raccolto conclude l'Associazione degli Agricoltori e una situazione di maltempo è prevista anche per domani a partire dalle 18 fino alle 8 di giovedì lo dice un'allerta emanato dall'Agenzia di Protezione Civile regionale che riguarda le pianure di Forlì e Ravenna e Bologna e Ferrara e anche la fascia costiera venti nord-orientali sul mare sulla fascia costiera forti condizioni di mare agitato a partire dal tardo pomeriggio e quindi una situazione da tenere sotto controllo e ora parliamo di un altro tema dei siti delle aree inquinate del nostro territorio comunale nelle settimane scorse ricorderete le polemiche sulla ex discarica di Caleona nei pressi di Casaglia ecco nel prossimo servizio uscendo dalle polemiche vogliamo provare a cominciare a capire come avviene il monitoraggio della situazione delle aree inquinate del territorio c'è la situazione di Caleona ma non solo la ex discarica di Caleona nella zona di Casaglia non è che una delle aree della città in cui da anni si monitora la presenza di sostanze inquinanti è un'area complessa composta da diversi lotti di terreno i più vecchi dei quali risalgono addirittura agli anni 70 in questa zona sono in corso monitoraggi realizzati impiegando una rete di piezometri tutto intorno all'area ex discarica effettuati da ERA e controllati da ARPAE finalizzati ad appurare se l'area comporti pericoli per la salute o se il grano coltivato in parte di quest'area possa risultare contaminato la conclusione a cui sono arrivate sino ad ora ARPAE e ASL è che non vi sono particolari rischi e che il grano non è contaminato proprio oggi tuttavia il Movimento 5 Stelle chiede ulteriori dati e precisazioni all'amministrazione comunale sulla discarica di Caleona per esempio quali metodi impiegati per monitorare l'eventuale inquinamento dell'area e quali analisi siano state effettuate sul grano che qui è coltivato di fatto il braccio operativo dell'amministrazione comunale per quanto riguarda il monitoraggio delle aree inquinate è proprio ARPAE agenzia regionale prevenzione ambiente ed energia Caleona non è l'unica area oggetto di interesse c'è anche ad esempio il quadrante est anche qui parliamo di un'area usata molti anni fa come discarica che fu al centro di polemiche in occasione della costruzione dell'asilo nido di via del Salice dopo che è stata appurata la presenza di CVM e altri clorurati nel sottosuolo qui è stato avviato un progetto di disinquinamento che procede da due anni e che è cofinanziato dalla regione Emilia Romagna il comune per sostenere i costi della bonifica ha chiamato in causa la società chimica Solvay ritenendola responsabile dell'inquinamento riscontrato Solvay ha fatto ricorso al TAR contro il comune ma il TAR ha respinto il ricorso e ora si vedrà come procederà la contesa in tempi più recenti sono state avviate campagne di monitoraggio a nord della città e a ovest nella zona di via del lavoro adiacente a via Modena qui benché si siano individuati nel sottosuolo superamenti delle soglie di concentrazione consentite per alcune sostanze inquinanti la situazione non parrebbe critica ma è ancora molto presto ci spiegano da ARPA per arrivare a un risponso definitivo e ora andiamo alle vicende internazionali accade in Turchia che il presidente turco Erdogan vinca di misure il referendum sul presidenzialismo che lo blinderebbe alla guida del paese fino al 2034 ma la Turchia è spaccata in due il sì vince con il 51,2% le polemiche però sono forti dentro e fuori il paese e mentre oggi il presidente degli Stati Uniti Trump si congratula al telefono con Erdogan l'Europa sembra prendere le distanze e mette in discussione la possibilità di accogliere la Turchia nel consesso delle nazioni europee ne abbiamo parlato con la professoressa Cristiana Fioravanti che è docente di diritto internazionale e dell'Unione Europea presso l'Università di Ferrara vediamo mentre in Turchia l'opposizione parla di brogli e chiede di cancellare l'esito del referendum sul presidenzialismo vinto di misura da Erdogan e in Europa la Germania chiede al governo turco di rispettare tutte le parti politiche e civili vista la spaccatura del paese Erdogan dal canto suo esige il rispetto dell'esito del voto da tutti i paesi alleati è un quadro molto mosso quello che si offre agli osservatori europei il giorno dopo la proclamazione dell'esito del referendum che sembra solo l'inizio di una forte trasformazione in senso fortemente autoritario del paese dove i sostenitori del leader ed Erdogan stesso già da tempo hanno ipotizzato la possibilità di reintrodurre la pena di morte attraverso un nuovo referendum l'eco internazionale dell'esito del voto intanto vede da un lato la telefonata di congratulazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che prende le distanze in funzione anti-ISIS dall'amministrazione Obama dall'altro la preoccupazione dei paesi membri dell'Unione Europea che seppure con toni molto diversi va dallo stop chiesto dall'Austria ai colloqui sull'ingresso della Turchia nell'Unione all'alto là del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani Tajani in particolare se da un lato auspica che i rapporti tra Europa e Turchia non precipitino aggiunge che se passasse la pena di morte Ankara si metterebbe al di fuori di una prospettiva europea per Cristiana Fioravanti docente di diritto internazionale dell'Unione Europea di Unife la Turchia ha certamente una formidabile arma di pressione sull'Europa nei recenti accordi sull'immigrazione ma ben difficilmente negoziati per il suo ingresso nell'Unione avviati formalmente nel lontano 2005 potrebbero andare avanti se fosse reintrodotta la pena di morte per entrare in Europa aggiunge la docente occorre garantire il rispetto di tutta una serie di principi e diritti su cui si fonda l'Unione la pena di morte potrebbe mettere definitivamente in discussione l'ingresso della Turchia la situazione in Turchia è fluida continua Cristiana Fioravanti e l'Unione deve attendere gli sviluppi anche se la deriva in senso autoritario del paese ha creato molta diffidenza così conclude se molti stati partner oggi insistono per mantenere aperti i negoziati e altri ne chiedono l'immediata chiusura è tuttavia ancora presto per vedere quali saranno le strade future perché se da un lato la Turchia è fortemente legata all'Unione resta un paese nato dall'altro l'Unione non potrebbe accettare l'ingresso di un paese che ne viola i principi base per questo conclude Cristiana Fioravanti oggi una posizione attendista sembra forse la più saggia e ora parliamo dell'emporio solidale Il Mantello ne abbiamo parlato in più occasioni è un'iniziativa che cerca di dare una mano a persone che si trovano a nuclei familiari che si trovano in temporanea difficoltà oggi è stato firmato un protocollo d'intesa e sono stati dati alcuni dati alcuni elementi sulla attività dell'emporio solidale sono attualmente 67 i nuclei familiari inseriti nel progetto Il Mantello l'emporio solidale di via Mura di Portapò pensato per dare un sostegno al reddito di famiglie che si trovano in temporanea difficoltà per un periodo che può andare da 6 a 18 mesi 67 nuclei familiari per complessive 260 persone che grazie al Mantello possono ottenere generi di prima necessità e servizi acquisendoli direttamente nell'emporio di questi 32 sono italiani 35 di provenienza straniera in prevalenza dal Marocco e dalla Nigeria l'età media dei capofamiglia si colloca sui 43 anni circa metà dei membri adulti di questi nuclei familiari sono in difficoltà per quanto riguarda il lavoro sono disoccupati oppure in cerca di occupazione in alcuni casi da più di un anno e mezzo tra i capofamiglia ve ne sono 26 che hanno la licenza di scuola media ma ve ne sono anche 14 che hanno la laurea a maggio il numero di coloro che possono servirsi dell'emporio solidale è destinato a crescere perché a metà del mese scadrà un nuovo bando di accesso al programma di aiuto l'emporio è promosso da Comune di Ferrara dall'Agenzia Servizi alla Persona ASP e da Agire Sociale il Centro Servizi al Volontariato con il sostegno di diversi partner privati tra i quali figura anche Telestense Agire Sociale si occupa del coordinamento operativo dell'emporio solidale ASP si occupa in prevalenza dell'individuazione dei soggetti che possono beneficiare dell'emporio solidale il Comune sostiene economicamente l'uso degli spazi in cui il mantello è collocato e si occupa dei rapporti tra il mantello stesso e le istituzioni pubbliche e private profit e no profit che possano sostenere l'attività dell'emporio solidale anche attraverso bandi o finanziamenti di natura pubblica questi in estrema sintesi sono i contenuti del protocollo firmato oggi dalla Presidente di Agire Sociale Laura Roncagli dall'Assessore Servizi alla Persona Chiara Sapigni e da Angela Alvisi Presidente dell'ASP Servizi alla Persona Il 12 maggio prossimo si tiene a Cortona l'Assemblea Nazionale della Rete delle Città Sane secondo l'OMS dove si farà il punto sulle esperienze più recenti delle città sui temi dell'invecchiamento attivo del contrasto alle dipendenze del contrasto al gioco d'azzardo patologico sull'inclusione lavorativa la sana alimentazione la lotta allo spreco insomma un appuntamento per sottolineare la necessità di un'alleanza forte fra urbanistica e sanità sui temi della prevenzione Esiste un modello italiano di città attiva di una città in cui tutte le politiche finalizzate a far muovere i cittadini in sicurezza siano coordinate può essere definita attiva dicono infatti gli studiosi la città che potenzia le opportunità che consentono a tutti i cittadini di mantenersi fisicamente attivi nella vita quotidiana agendo sulle infrastrutture e sul contesto sociale da questo punto di vista la città attiva può anche considerarsi una città sana in Italia tutt'oggi l'impressione è che su questo fronte ci si stia muovendo ancora nel regno delle buone intenzioni ma molto è stato fatto anche a Ferrara per dare vita a una città il cui impianto urbanistico favorisca stili di vita orientati al movimento le mura rinascimentali dopo il restauro sono diventate una grande palestra a cielo aperto il parco urbano idem secondo Romeo Farinella professore associato di progettazione urbanistica di Unife fra i promotori già nel 2012 proprio a Ferrara del primo seminario italiano sulle città attive Ferrara in Italia è sulla strada giusta per i numerosi progetti legati al movimento e alla prevenzione l'importante aggiunge rendere i cittadini consapevoli delle motivazioni salutistiche alla base di scelte anche impopolari che favoriscano il muoversi a piedi certo c'è ancora molto da fare sapendo che tra i fattori che determinano una maggiore propensione all'attività fisica sembra che non ci sia tanto la disponibilità di impianti quanto le politiche di sensibilizzazione la vicinanza di aree attrezzate il clima favorevole la possibilità di spostarsi da un punto all'altro della città in sicurezza e senza perdere mezze giornate fino ad ora i più sensibili a questo messaggio secondo le statistiche sono stati i cittadini di livello socio-economico medio-alto per questo è necessario capire come spingere le persone di livello socio-economico più basso a fare un'attività fisica naturale senza intermediari facilmente fruibili da un pubblico vasto per uno sport non competitivo una domanda che Telestense intende porre al centro del confronto nella prossima puntata di Salute 3.0 in onda giovedì prossimo quindi segnatevi l'appuntamento con Salute 3.0 la sera di giovedì cioè dopo domani io con questo chiudo questa edizione del nostro tv giornale ringraziandovi per l'attenzione continuate a seguirci naturalmente su Telestense.it e sui nostri profili Facebook e Twitter per tutto ciò che c'è di importante da sapere sul territorio di Ferrara grazie grazie a tutti grazie a tutti